amici di le fonti tv è un piacere essere con voi per dare il via a un programma che fa già parte del palinsesto di le fonti tv ma che riprende la stagione la nuova stagione naturalmente no haber l'avete visto dalla nostra sigla tutte le voci della formazione e ripartiamo una stagione alla grande con il tema che abbiamo scelto per voi per questa puntata proprio per ripartire con il piede giusto lo leggete in sovrimpressione noi parliamo di influencer ma come leggete c'è un bel io davanti e vi spiegheremo tutto nel corso di questa puntata competenze per sviluppare le relazioni digitali in collaborazione con rebis e c'è sempre lui manuel minati che apre la puntata con me manuel ben trovato ben trovata naturalmente perché dobbiamo fare il pre e poi ci sarà il dopo certo perché ricordiamo ci sarà un dibattito una chiacchierata dopo che io te avremo introdotto la puntata per entrare nel merito di un argomento che insomma ci porta a un a un tema di cui parliamo sempre quello degli influencer però ti posso dire subito è facile parlare di più io e te potremmo parlarne per 24 minuti potremmo parlarne probabilmente per giorni diciamo che una delle cose che in questi mesi mi è capitato più spesso di osservare è come si sia passati da una definizione di influencer esterna alle aziende a qualcosa di interno alle aziende ovvero tutte le persone che sono all'interno di un'organizzazione grande e piccola che sia hanno la capacità di influenzare i propri clienti i propri fornitori i propri colleghi quindi il muovere questa capacità di comunicare e influenzare è qualcosa che sta diventando istintivo sta diventando necessario e a questo punto come tutte le cose che possano creare valore va prima di tutto strategicamente costruito e per le persone nel nostro caso specifico va formato certo anche in termini di competenze utili a fare bene questo tipo di attività che non è necessariamente qualcosa di istintivo per tutti no no beh insomma sicuramente parlando di formazione sono non sarebbe all'interno di no haver questo non a caso tutte le voci della formazione no perché poi comprende tante questioni peraltro se volessimo tradurlo un po mezzo mezzo in italiano parliamo proprio del marketing di influenza che si è proprio che è diventato sempre più importante negli ultimi anni per le aziende no e questa parte oltretutto manuel nell'ultimo anno e mezzo con quello che abbiamo passato tutti noi abbiamo dovuto necessariamente acquisire più competenze in materia di digital quindi innovarci fondamentalmente sì credo che la grande differenza rispetto al periodo pre covid sia che abbiamo scoperto che anche quelle figure che in azienda non erano o meglio non percepivamo come influencer lo sono quando noi abbiamo ci relazioniamo con un call center quando ci relazioniamo con un addetto alle vendite quando ci relazioniamo con un ufficio acquisti qualunque sia il nostro interlocutore sì ne abbiamo una percezione quindi come questa persona si relaziona con noi influenza il giudizio che noi diamo automaticamente non tanto della persona quanto dell'azienda che lui rappresenta quindi in questo senso anche una telefonata è un'attività di influenza in marketing il tema è che oggi col digitale siamo orientati a usare strumenti che hanno un altro elemento ci danno un feedback immediato certo cioè un commento ben fatto o mal fatto genera istantaneamente reazioni esatto quindi ci accorgiamo subito di quello che stiamo facendo ovviamente adesso diamo via al nostro dibattito con due ospiti eccezionali che ci diranno di più dicevo io e te possiamo parlarne però con loro ne parleremo ancora più nel dettaglio loro ne sanno poi io e te ci vediamo naturalmente per le conclusioni quindi sulla sigla ti faccio alzare facciamo accomodare loro e poi torni tu va bene? me ne vado ok a tra poco e dopo questa premessa possiamo entrare nel merito della discussione un argomento che come abbiamo già detto insomma è molto dibattuto ma va declinato nel giusto modo per capire davvero poi come si deve sfruttare appieno la potenzialità di colui o colei che è definita influencer saluto subito i miei ospiti perché sarà con loro che ne parlerò analisa margheriti che ringrazio di essere in studio con me communication pr influencer marketing advisor grazie per essere qui grazie a voi dell'invito e saluto e ringrazio anche rudy zanchi innovation manager formatore e owner di move communication grazie grazie a tutti allora andiamo subito analisa parto da te ovviamente ci diamo del tu perché parliamo di innovazione digitale quindi tutto molto smart no per usare un po i termini che si usano solitamente abbiamo già detto che è facile dire influencer allora una parola che ormai è entrata a far parte del vocabolario di tutti i giorni si usa anche un po sproposito a volte e la pronunciamo tantissime volte però un conto è usarla e sapere che cosa significa in senso assoluto un conto è parlare di influencer relativamente a delle scelte aziendali quindi per esempio quando un'azienda deve decidere a chi affidare la comunicazione quindi a quale influencer affidare la comunicazione come si va nella giusta direzione come scegliere e come integrarli quindi nell'azienda allora innanzitutto dobbiamo considerare che sono un fenomeno comunque recente se andiamo a vedere la prima il primo dizionario che li definisce nel 2017 il garzanti in italia quindi sono comunque un fenomeno in quanto giovane e in quanto giovani sono in continua evoluzione però dobbiamo considerare che influencer è qualcuno che ci influenza nelle nostre scelte nelle nostre azioni piccolo grande che sia in base al numero di follower comunque riesce ad influenzare la sua community questo è un influencer poi se prendiamo quelle definizioni da manuale vediamo che ci sono nano influencer micro influencer celebrity a seconda del numero di follower che hanno sui loro canali social ma non è detto che per forza una campagna di influencer marketing vincente sia la campagna in cui io scelgo solo l'influencer che ha milioni di follower non è assolutamente così dipende dal tipo di azienda dal tipo di prodotto magari ci sono aziende che sono profondamente radicate nel territorio e hanno bisogno di trovare degli influencer radicati nel territorio e quindi questi influencer non potranno avere milioni di follower ma non necessariamente magari sono vip nel vero senso della parola ma che sono conosciute a livello territoriale che fanno molto di più portano molti più risultati assolutamente e poi bisogna considerare che magari un influencer più piccolo in termini di follower a quello che gli esperti di marketing chiamano engagement rate quindi un ingaggio sulla sua community molto più alto quindi è molto più credibile viene seguito viene commentato e diventa realmente influente quindi in realtà non c'è una formula giusta ma magari ci sono campagne di marketing dove il mix vincente è un'unione tra più tipologia di influencer diverse oppure alcuni che hanno bisogno solo di piccoli influencer o solo di celebrity da milioni vediamo se ho imparato la prima lezione perché poi è bello anche procedere così quindi insomma sfattiamo un po' quando parliamo di influencer aziendali sfattiamo un po' il mito del numero dei follower assolutamente perché appunto dipende quanto è efficace per quel tipo di azienda quindi insomma liberiamoci perché è un po' una schiavitù no quella di pensare guardare i like i like i follow poi magari con i capitano con i social si perde qualche follower la tragedia invece non è detto che sia poi quello che fa di noi degli influencer beh questo già una buona notizia sono sicura che saranno contenti molti che ci seguono e partiamo Rudy con te ripartiamo dal titolo perché non a caso abbiamo scritto io virgola influencer perché tutti noi che poi è un po' quello che stava dicendo anche analisa possiamo essere influencer indipendentemente dal seguito che abbiamo avuto fino al giorno prima o che abbiamo magari nel momento stesso in cui ci rendiamo conto di essere influencer perché sembra un per un discorso un po contorto ma poi fondamentalmente non lo è sì è molto semplice tutti noi abbiamo una rete di contatti tutti noi abbiamo relazioni e sulla base di questo influenziamo con nostro parere con dal nostro punto di vista quelle che possono essere le esperienze altrui detto questo l'ho trasferito in azienda se io sono un dipendente di un'azienda faccio parte di un'azienda importante piccolo grande che sia sono il primo promotore dei valori dell'azienda quindi sono il primo influenzatore della mia rete su quelli che sono i valori la mission la vision aziendale quindi è vero io influencer parte da lì io posso essere molto importante per la mia azienda perché qualsiasi contenuto la mia azienda voglia produrre e disseminare sul territorio sono il primo veicolo di contatto con il pubblico quindi la formazione e la crescita di queste figure di questi questi ruoli anche minori in azienda sono propedeutici alla diffusione del messaggio la mia strategia aziendale si diffonde grazie al fatto che sono nel mio piccolo un influenzatore di conte di persone quindi visto che appunto la premessa una delle premesse che abbiamo fatto è questa che è cambiato il modo di lavorare non che prima non ci fosse il digital ci mancherebbe perché da un po che ne parliamo però chiaramente con l'accelerata che ha dato il covid tutti noi abbiamo dovuto no prende avere più confidenza sicuramente con il mondo digitale quindi rudy stavo pensando è più facile a volte per un'azienda poi chiaramente con le dovute differenze riuscire a essere digital quindi a spargere perché poi riprendo ancora il titolo sviluppare le relazioni digitali attraverso una singola persona piuttosto che attraverso che so io altri piani aziendali che prima venivano fatti ovviamente parliamo di due modi di lavorare diversi noi stiamo parlando di un nuovo modo di approcciarsi anche all'esterno chiaramente attraverso assolutamente il digitale ha permesso l'azienda di disseminare il proprio messaggio con un influencer chiamalo così di rilievo quindi una celebrity se c'è un lì su un certo tipo di livello di pubblico dall'altra parte non può lavorare a questi livelli molto alti se non ha prima ingaggiato il proprio i propri propri dipendenti quindi i primi promotori sono questi quindi la disseminazione del messaggio della qualità del prodotto della del valore che questo ha per sapere prodotti passa dal dipendente ma anche si chiudo ma anche in strategie che sono legate anche alla scelta di brand scelte green sono scelte aziendali devono essere diffuse quindi l'influencer si in qualsiasi momento chiaramente con una formazione giusta o con una trasformazione anche di figure professionali che abbiamo in azienda che può diventare dei punti di riferimento perché hanno un'esperienza col contatto col cliente perché hanno un certo tipo di esperienza durante il diciamo il pre covido quello che può essere stato la loro attività durante il percorso lavorativo ecco queste esperienze possono essere trasformate in customer service quindi lavorare nel digitale per assistere in social media management magari cioè si trasformano figure che hanno avuto relazioni col cliente perché sanno come trattare il cliente quale relazione qual è il rapporto che si può avere e quindi anche loro influenzano le scelte ecco un'altra cosa che abbiamo imparato è che per esempio l'influencer può essere proprio una persona anzi è una persona che lavora per un'azienda quindi non la celebrity necessariamente chi viene ingaggiata per trasmettere un messaggio è però questo per esempio tutto tranne che scontato io stessa forse sì in modo distratto l'avevo già pensato ma non così in modo impattante diciamolo in questo modo analisa questo punto diciamo anche che gli influencer possono essere interni esterni no visto che stiamo parlando proprio di un'azienda e cominciamo a parlare di quello che può essere il valore aggiunto che può ottenere un'azienda che decide di puntare su degli influencer che siano anche gli stessi dipendenti no però ovviamente deve mettere in moto tutta una serie di ragionamenti che evidentemente non sono quelli che metteva in moto prima cosa può aspettarsi un'azienda da questo allora innanzitutto dobbiamo pensare che deve essere una strategia sinergica quindi bisogna individuare un messaggio chiave una mission dell'azienda che viene propagata un po come fosse un'onda prima parlavamo di influencer interni all'azienda e man mano il messaggio si propaga ma più si propaga più diventa forte più diventa potente diventa concreto quindi sicuramente è un modo per portare i valori dell'azienda la sua mission far conoscere i suoi prodotti all'esterno e lo posso fare attraverso tanti canali quindi attraverso influencer interni influencer esterni e poi tutta una serie di leve di marketing diciamo più tradizionali che conosciamo magari meglio con cui siamo più confident certo ecco anche tu ti ritrovi in questo perché mi piacerebbe sentire anche la tua voce anche da un punto di vista di formazione perché poi facciamo così ti faccio subito la domanda un po provocatoria siccome il concetto di influencer spesso viene un po generalizzato no lo abbiamo detto fin dall'inizio si pensa che tutti possano fare gli influencer magari di base di fatto possiamo farlo tutti c'è anche domani come dai voglio fare l'influencer sì però dovrò fare qualcosa quindi a livello di formazione cosa bisogna bisogna fare quindi dal lato l'azienda che decide di investire l'impatto che può avere questa figura per il ritorno dell'azienda però appunto di pari passo ci deve essere un'adeguata formazione è fondamentale la formazione perché abbiamo detto il cambio l'evoluzione del ruolo eventualmente in azienda quindi quelle che sono le caratteristiche dicevamo prima o che l'influencer si trasformano si evolvono e quindi sono creatori di contenuti e definitivamente sì creatori di contenuti devono saperli creare con delle linee guida ben chiare l'influencer non è la persona che fa in questo caso se lavoriamo con l'azienda se pensiamo di portare un progetto strutturato come diceva prima analisa verso un obiettivo non è il ragazzo la persona che posta i propri video ha necessità di conoscere gli strumenti di utilizzare al meglio e di integrarsi con quella che è la realtà aziendale questa trasformazione per questa trasformazione questo sviluppo è chiaro che le figure che prima lavoravano con il contatto col cliente devono digitalizzarsi hanno bisogno di una formazione una formazione che li porti a usare questi strumenti con qualità utilizzando le parole chiave o gli strumenti base la produzione del contenuto video del testo dell'uso della fotografia che siano adeguati alla strategia aziendale un po' il concetto di creare valore no anche in questo caso è però formazione a doppio binario perché da una parte l'influencer quindi la persona singola deve sapere come creare un video postarlo adesso dico cose banalissime poi ovviamente l'ambito è molto più ampio esattamente no perché vedevo Annalisa che già mi diceva non è solo creare video e infatti questa è un'altra lezione però non è solo quello magari sennò quello lo sappiamo fare più o meno tutti oggi però perché a doppio binario perché anche l'azienda e qui è anche la domanda nella domanda ancora aperta e Rudy deve sapere come trasformare non so se è l'espressione giusta il dipendente in influencer cioè tirare fuori il lato dell'influencer da una persona che magari fino al giorno prima non lo era assolutamente quindi la conoscenza del proprio dipendente la conoscenza delle caratteristiche e l'azienda deve capire a chi rivolgersi anche perché questa azione di formazione sia efficace non tutti siamo in grado o abbiamo le qualità per arrivare a quel livello però grazie alla formazione e a un supporto aziendale con aziende esterne con società che fanno proprio questo tipo di attività possiamo andare a ottenere gli obiettivi specifici da lì creiamo un team di lavoro da lì possiamo ottenere quali del nostro gruppo che abbiamo ingaggiato di persone hanno qualità tali per cui risaltano rispetto agli altri allora lì ho catalizzato, ho trovato quali sono i punti forti quindi loro saranno i miei influencer o reinventarsi, saranno reinventati e reinventarsi in un nuovo ruolo a livello dell'azienda ma le aziende sanno come muoversi in questa formazione? chiedo a tutte e due le aziende lo sanno alcune magari sono più strutturate altre hanno capito che questo è un treno che non si può perdere che quindi ormai non si può prescindere è il classico valore aggiunto se ci metto anche questo posso ottenere di più quello che ho visto io nella mia esperienza di professionista è che per fortuna mi viene da dire le aziende hanno capito che questo è un lavoro serio e che va fatto in modo strutturato e che quindi o hai bisogno di una formazione che viene dall'esterno e che supporta i tuoi dipendenti o comunque hai bisogno di avvalerti di professionisti che veramente spieghino come va fatto nel modo corretto per essere efficace diciamo che non ci si improvvisa esatto che è legato al tema della formazione assolutamente no e inoltre l'azienda deve credere in questo progetto e deve condividere nel progetto di marketing strategico quello generale aziendale questa figura quindi saperla integrare e saper dar valore alla figura in un'ottica complessiva quindi non è un one shot ci provo e vedo come va in sostanza ma è una scelta strategica che deve essere avvalorata da una serie di scelte poi conseguenti nella strategia marketing budget esatto formazione continua che è l'equivalente del classico piano aziendale che si fa per dirottare le risorse per capire dove si vuole investire quindi si destina anche ecco ma è possibile dire chiedo la stessa cosa a entrambi che impatto hanno le azioni da parte degli influencer cioè quando un'azienda sceglie di destinare una parte delle risorse a questa parte qui cioè al digital e quindi anche all'utilizzo di influencer che impatto ha cioè ci sono dei numeri su cui ci possiamo basare? allora per quanto riguarda degli influencer professionisti quindi dei creatori di contenuti ci sono una serie di parametri che vengono considerati quando si analizza una campagna di influencer marketing per valutare se effettivamente è stata efficace una domanda che spesso mi sento fare mi sono sentita fare dai clienti anche in passato è ma questi influencer mi faranno vendere mi venderò più prodotti attraverso questa campagna di influencer marketing e comunque dobbiamo pensare che è vero sì alcune vendite possono essere tracciate attraverso la creazione di contenuti ma non possiamo sapere nel momento in cui influenziamo una persona non è detto che l'acquisto venga immediatamente dobbiamo pensare a che tipo di prodotto abbiamo se è un prodotto magari estremamente costoso o un prodotto comunque da un alto con un alto contenuto tecnologico che quindi va compreso l'acquisto non sarà mai immediato non lo farebbe nessuno però questo non significa che quelli influencer o più influencer che noi abbiamo visto non ci abbiano influenzato certo e poi comunque sempre di più le campagne vanno analizzate anche da un punto di vista qualitativo oggi l'intelligenza artificiale ci aiuta in questo però è molto importante vedere il tipo di messaggi che questa conversazione ha innescato le persone che sono state coinvolte le sotto community che iniziano a parlare attraverso una certa campagna di influencer marketing e il sentiment che traspare da queste conversazioni quindi in realtà ci sono tanti fattori da considerare non soltanto uno e non guardare soltanto il numerino no ecco sì infatti e credo anche che si vedano Rudy un po' nel lungo termine credo che sia un processo abbastanza veloce come tutte le questioni legate al digital eccetera però insomma non è che il giorno dopo si riscontra no analisa riparto da te poi vado da Rudy insomma bisogna aspettare un po' bisogna dare tempo anche perché ogni volta che si cambia una strategia ci vuole del tempo per vedere quali effetti ha sul pubblico su chi segue assolutamente soprattutto se un'azienda si affaccia all'utilizzo di influencer esterni o interni per la prima volta deve darsi il tempo di raccogliere i frutti di questa strategia non possiamo pensare che dall'oggi al domani cambi tutto eh no magari ecco chiedo anche a te e poi un'altra cosa interessante che mi piacerebbe scoprire prima di salutarvi è la seguente ma vale un po' per tutti i settori questo prima dicevamo insomma non si può prescindere ormai da questo nuovo modo di fare marketing ma vale per tutti i settori ora non so se vogliamo citarne qualcuno certo qualcuno si presta più di altri però ecco comprende tutti ma se guarda il punto di vista di diffusione del messaggio ad entrare quindi quel lavoro che dicevamo prima parto da zero faccio un certo lavoro che agisce indubbiamente sul branding quindi prima devo creare valore nel brand perché sia acquisito quindi posso fare un'azione con un influencer ma se il mio brand non è conosciuto ho bisogno di tempi un pochino più lunghi quindi i settori tutti sì sì perché anche se io sono dico il panettiere sotto casa per far capire che il mio prodotto è migliore degli altri devo fare un'azione di disseminazione di contenuti di valore che facciano capire che il mio pane è più buono degli altri quindi tutti io influencer riprendendo il titolo e non c'è settore se il pane è più buono degli altri lo saprà solo la signora che abita lì sotto perfetto quindi devo devo condividere la condivisione a tutti i livelli questa condivisione ci permette di essere trasversali che io faccia veramente il pane o faccia il prodotto più tecnologico se è una start up di altissima tecnologia la comunicazione se è il vecchio detto chi non comunica non esiste qui è amplificato in maniera esponenziale il digitale ci ha dato veramente il mondo peraltro è un mezzo democratico tutti lo possiamo utilizzare certo poi chiaramente in base ai mezzi che si hanno a disposizione si può fare una formazione più dettagliata piuttosto che magari avere un'infarinatura però possiamo farlo tutti quindi insomma e quindi il consiglio vostro è quello cioè visto che ci seguono sulle fonti tv tantissime aziende di tanti settori insomma noi parliamo quotidianamente con responsabili di diverse aree di business il consiglio è proprio quello di cominciare se non si è ancora fatto o meglio cominciare ma soprattutto farlo in modo in modo strutturato strutturato ecco perché non basta mettere il video online no perché allora diventa una dispersione di energie nulla di più quindi prenderlo come impegno serio e fare un investimento anche internamente con i dipendenti per la formazione esatto visto che Rudy sei anche un formatore anche perché ovviamente non sei solo quello ma per chi volesse approfondire la formazione cosa consigli cioè veramente dire da domani mi metto sulla giusta strada per andare in questa direzione innanzitutto creare un percorso come dicevamo prima virtuoso e quindi con una strategia un percorso di formazione che sia serio e concreto che mi faccia esaltare mi faccia risaltare quelli che sono le caratteristiche dei miei dipendenti quali possono essere veramente dei punti di forza e andare a ingaggiare lì per dargli poi una formazione più mirata quindi fare una specie di imbuto chiamalo così funnel come va di moda adesso proprio sulla sul percorso formativo sempre più specifico per poi andare a fare un'azione concreta nel mercato quindi andare a postare a creare questo percorso quindi a attuare il mio piano editoriale il piano di strategico verificare i risultati budget e nuovo investimento questo percorso continua a modificarsi migliorandosi di volta in volta perché ovviamente i rami secchi li devo eliminare però faccio crescere continuamente con l'esperienza e magari con il supporto esterno di qualche influencer esterno che faccia sì che quest'onda si propaghi in maniera più forte insomma è come lanciare un sasso nello stagno in sostanza che si allarga sempre più se io continuo a agitare le acque riesco a modificare di più quindi mi serve magari dopo che ho fatto il primo passaggio di crescita ecco che dovrei mettere un sasso un po' più grande perché queste onde siano un pochino più forti ovvio e allora potremmo stare a parlarne per ore ma comunque questo è solo un primo passaggio un primo step poi naturalmente Annalisa e Rudy fanno parte della community di Nohabber e anzi tra poco nelle conclusioni vi ricorderemo come fare a partecipare sempre di più e quindi ci risentiremo presto intanto io ringrazio Annalisa Margheriti e Rudy Zanchi grazie e con altri consigli insomma presto vediamo magari tra un po' anche per fare un bilancio di quanto effettivamente le aziende hanno compreso l'importanza di questa nuova strategia di marketing intanto anch'io ho imparato tante cose come sempre con Nohabber grazie ancora e noi come detto avviamoci verso le conclusioni torniamo con Manuel Minati perché dobbiamo fare un po' il punto della situazione e come detto ecco tornato Manuel Minati eccomi ti abbiamo chiamato ti ha chiamato con i nostri ospiti beh è stato devo dire sempre interessante ma un dibattito molto interessante perché l'hai seguito anche tu hai sentito che ho imparato delle cose che io stessa non sapevo quindi è stato molto utile allora che bilancio possiamo tracciare di questa puntata Manuel? beh io credo che i nostri esperti ci hanno confermato che si può lavorare in termini di formazione per far diventare quello che pensiamo sia uno strumento ormai indispensabile come qualcosa di organico alle nostre aziende qualunque sia il settore qualunque sia la dimensione creare valore da ogni singolo contatto che noi riusciamo a generare e questo è la luce di tutte le capacità di relazionarsi e abbiamo scoperto cosa che sapevamo già ma l'abbiamo confermato che è importante esserci ok partiamo da qui naturalmente nel giusto modo non esserci tanto per esserci ma credo che questo sia abbastanza scontato così con un collocamento insomma neanche tanto lontano e diverso rimandiamo alla pagina LinkedIn del nostro community esatto della nostra community perché naturalmente voi potete seguirci sulle fonti ovviamente ogni mese in compagnia di mia di Manuel Minati e dei nostri ospiti ma attraverso la pagina LinkedIn di Nohaber potrete far parte sempre di più di questa community che si sta ingrandendo e che continuerà sicuramente a ingrandirsi noi ce l'auguriamo anche perché è un luogo in cui speriamo di darci influenze positive sui temi ovviamente legati alla formazione al training e tutto quello che gira intorno a questo magico mondo esatto anche perché proprio si creano sinergie in questo modo l'importanza di fare rete voglio dire poi in questa puntata ancora più il concetto è in evidenza ci vediamo il prossimo mese ci vediamo il prossimo mese perché la stagione è ripartita alla grande siamo carichissimi esatto mi raccomando vi aspettiamo anche sui social per aumentare ancora di più le discussioni sui temi che proponiamo sulle fonti tv grazie a Manuel Minazzi grazie a te Rebis grazie per questa collaborazione molto importante naturalmente grazie per averci seguiti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti